Gotte rosse rosse di chi viene alla campagna, hai scelto signora Bovary Roberta Mantegna, ci si può innamorare del personaggio di Anna? Sì, io penso che ci si possa innamorare del personaggio di Anna perché è una donna che soffre per amore quindi tutte noi prima o poi nella vita proviamo questi sentimenti ma a differenza delle donne che spesso si incontrano nelle opere che a volte si sacrificano per gli uomini si uccidono, si immolano, vengono uccise nelle lotte tra persone che li contendono in questo caso Anna muore di dolore ed è una morte straziante che quindi ci permette di affezionarci al personaggio nonostante abbia anche dei tratti un po' morbosi come diciamo la sua gelosia, la sua possessione lei non vorrebbe che Roberto si allontanasse mai da lei, c'è qualcosa anche un po' di morboso ecco in questo però effettivamente quello che fa il suo amato Roberto è tradirla appena si allontana da lei inoltre lei esprime questo amore e queste paure attraverso delle pagine di musica veramente meravigliose intense e struggenti per cui è un attimo affezionarsi al personaggio grazie a tutti